Scusatemi, avrei voluto fare un intervento ma ormai non c'è più tempo e quindi per carità nessun problema. Volevo solamente ringraziare a nome del Collegio FIAI Lombardia, FIAIP, tutta FIAIP, per il riconoscimento che è stato assegnato al collega Alberto Zamberletti, che è un nostro associato della Lombardia. Alberto in questo momento sta attraversando un periodo difficile e speriamo tutti quanti che a breve possa rientrare nei ranghi e possa essere qui insieme a noi nelle nostre riunioni. Grazie.